Molto soddisfatti di questo traguardo, tutti molto contenti, ma soprattutto rispecchia perfettamente quello che è stato l'anno e mezzo dell'associazione. Ossia tante iniziative, è una grande risposta di generosità dei soci e degli amici, con un unico obiettivo, donare un sorriso. È positivo il bilancio dell'associazione Matteo Farinelli, nata un anno e mezzo fa per non dimenticare un giovane genovese scomparso prematuramente a causa di una malattia. L'associazione ha già messo a segno molti risultati, in ultimo un'ambulanza donata alla Croce Bianca di Genova Bolzaneto. Noi ogni anno doniamo due borse di studio alla Facoltà di Economia e in passato siamo riusciti, oltre a aver donato l'ambulanza, a donare un handbike a una ragazza che verrà utilizzata al Dinamo Camp. Inoltre siamo riusciti a realizzare due sogni con Make a Wish. Il nostro messaggio infatti è riuscire insieme per un sorriso, noi cerchiamo fondamentalmente di regalare un sorriso alle persone che ne hanno bisogno. Tra i prossimi appuntamenti una gara di golf a Delenzano, tornei di carte e lotterie di beneficenza per poter raggiungere nuovi importanti risultati. Cerchiamo ovviamente in ogni manifestazione, in ogni nostra iniziativa di mantenere e di portare avanti questo nostro motto. Diciamo che ad oggi siamo felici e contenti di quello che abbiamo fatto e pensiamo di aver regalato anche qualche sorriso.